Dal libro del profeta Geremia «Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta, in cui non inciamperanno. Perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primo genito». Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. «Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare. Ma nel tornare, viene con gioia, portando i Suoi covoni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Dalla lettera agli ebrei. Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini. E per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, Egli deve offrire sacrifici per i peccati, anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote. Ma colui che gli disse, Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Gliela conferì come è detto in un altro passo. Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Dal Vangelo secondo Marco Abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma Egli gridava ancora più forte. Figlio di Davide, Abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse, Chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli, Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, Rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Grazie. 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 Grazie.